Migliaia di agricoltori si sono riversati nel porto di Genova per il Briz Pacifico compiuto insieme a pescatori e allevatori che hanno occupato la banchina di Calatta Vignoso, con prodotti, animali da fattoria e tutte le tipicità del settore agricolo e ittico della Liguria. L'iniziativa è stata organizzata da Coldiretti Liguria per affrontare le gravi difficoltà attuali che affliggono la città di Genova e l'agricoltura locale, i coltivatori di terra e di mare sui quali pesano le lungaggini burocratiche legate al piano di sviluppo rurale, ai cambiamenti climatici, ai danni di fauna selvatica, ma anche per far conoscere le grandi opportunità che si possono avere dalla valorizzazione delle storiche risorse del territorio. A farsi notare è stata la grande arca di Noè, ancorata nel centro del porto, con a bordo uno spaccato di vita di mare e di terra. Grande partecipazione anche per i laboratori che hanno mostrato attività agricole e ittiche, dalla sfilettatura del pesce fino alla preparazione del pesto al mortaio e all'iscio cooking dove gli agri chef e i fisher chef di campagna mica hanno mostrato come i piatti della tradizione possono essere interpretati in maniera innovativa. Successo infine anche per la raccorta firme con la quale Coldiretti chiede all'Europa di rendere obbligatoria l'indicazione di origine degli alimenti per prevenire le frodi alimentari.